Ben trovati amici di Tonale Evolution e appassionati dello sci. Questo è un video dedicato allo slalom gigante che cercherà di farvi capire su cosa andremo a lavorare quando sciiamo all'interno dei pali. Grazie ai nostri metodi innovativi cercheremo di rendere personalizzata la lezione e quindi andremo a lavorare in maniera diversificata in base alle vostre esigenze e al vostro livello. Andando a scoprire insieme quali saranno le vostre aree di miglioramento cercheremo di far appunto migliorare il più velocemente possibile sia chi ha bisogno di aumentare la propria performance nello slalom gigante e quindi di migliorare il tempo a cronometro perché è ancora impegnato nelle gare di sci con tempi a cronometro contro Omar Longhi che è parametratore e istruttore nazionale ex atleta azzurro sia chi si prepara per le selezioni maestri di sci e quindi anche perché deve passare l'eurotest ma aspettiamo anche chi vuole provare per la prima volta e vuole provare l'ebrezza e l'emozione di fare qualche discesa all'interno di uno slalom gigante seguiti dall'evo team che step by step vi guiderà in un avviamento all'agonismo più facile, più comodo passando dal facile al difficile facendovi scoprire questa disciplina andando ad analizzare più da vicino quello che è il gigante possiamo vedere come l'entrata curva in gigante sia fondamentale è fondamentale avere la perpendicolarità con il terreno e questa perpendicolarità mantenerla per tutto l'arco di curva in modo da poter andare a deformare in questa fase l'attrezzo e cercare così il raddrizzamento il prima possibile ma ciò che andremo a sviluppare e che sentirete parlare molto durante le nostre lezioni e che noi ripuntiamo fondamentale è il timing cioè il tempismo con il quale io effettuo i miei movimenti il tempismo che è dato dalle traiettorie di curva andando ad analizzare appunto il tempismo delle traiettorie di curva possiamo vedere come questa entrata curva che mi permette in questo momento di poter andare a deformare l'attrezzo ho la mia inclinazione e ho creato i presupposti per poter andare a raddrizzare in maniera veloce ho creato il presupposto non è detto che poi lo faccia però se non creo il presupposto sarà impossibile andare a raddrizzare velocemente lo andremo a vedere in un passaggio successivo ho creato un buon presupposto sono riuscito a raddrizzare velocemente ho finito la curva e sono riuscito a fare la curva in breve tempo sono riuscito a mantenere il bacino alto quindi ho evitato i cedimenti verso il basso e gli arretramenti verso il dietro direzione dello sguardo e dell'asse sagittale in direzione della nuova porta che arriva andiamo ad analizzare di nuovo il timing timing meno corretto rispetto a prima questo è il timing che ho in entrata curva in questo momento questo era il timing che avrei dovuto avere per poter appunto come si diceva prima creare i presupposti per raddrizzare velocemente in questa fase non riuscirò a deformare lo sci avrò un raddrizzamento più lento la mia curva durerà di più e come possiamo vedere le mie spalle in questa fase di curva sono ancora troppo inclinate e non parallelo al pendio di nuovo timing timing meno corretto rispetto alle due curve precedenti e qui si può vedere come tutto questo spazio verrà fatto poi con lo sci di traverso e quindi non sfruttando la deformazione dell'attrezzo come facciamo a riempire questo spazio ne parliamo sempre sul campo con il gigante davanti ai nostri occhi e cercando di parlare delle traiettorie e cercando di farvi capire quali sono i movimenti appunto che mi permettono di avere un'entrata curva invece che in questo momento averla in questo momento quindi il raddrizzamento che avviene più lentamente una curva dove non ho creato velocità e qui di nuovo torno ad avere un timing di nuovo abbastanza corretto che mi permette di deformare di raddrizzare più veloce e di portare fuori un po' di velocità andremo a lavorare molto anche sulle fasi del gigante più pianeggianti e quindi queste fasi qui dove cercheremo di capire come si spinge nei piani e come io possa portare io possa creare velocità dove il pendio non mi aiuta a crearla quindi andremo a fare delle prove tenendo la posizione a uovo e se non ecco la posizione a uovo è cercare delle posizioni più aerodinamiche soprattutto appunto col busto senza andare però ad intaccare quello che è il movimento degli arti inferiori questo è stato una piccola analisi di quanto concerne lo slalom gigante ci sono molte altre cose importanti che bisogna sviluppare ma vi aspettiamo e cercheremo di svilupparle insieme sul campo avendo i pali davanti ai nostri occhi e cercando di andare insieme a scoprire quali sono i movimenti importanti e qual è il timing giusto per poterli eseguire vi aspettiamo presto un saluto ciao ciao